Buongiorno Buongiorno Svahir Ci siamo? Buongiorno Ci siamo? Buongiorno, buongiorno, buongiorno Non c'è nessuno Ci siete? Svahir, buongiorno, buongiorno Sosu, buongiorno Emma Buongiorno Ok, buongiorno a tutti Buongiorno e buon venerdì Buongiorno 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 Muhammad, buongiorno 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 O Cheo Cheaprowco Ve. Ok, quindi, come è un'imagine? Quindi, come è un'imagine? Quindi, come faccio un'imagine e ti faccio un'imagine. Per esempio, noi stiamo parlando di un'imagine. Quindi, diciamo che ci saluti amo. Ci saluti amo. Ci saluti amo. Ok? Questa è una relazione con la rete e la relazione con la rete e la relazione con la rete e la relazione. Questa è una relazione con la rete e la relazione con la rete e la relazione con la rete e la relazione. Questa è una relazione con la rete e la relazione con la rete e la relazione con la rete e la relazione. . ok, 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 ok ok, 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 ok ok, 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 ok ok, ok ok, 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 ok ok, 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 ok sì, certo, io mi vesto, ok, tu ti vesti, mi vesto, tu ti vesti, lui, lei, si vesta, vesta, noi ci vestiamo, vestiamo, voi vi vestite, voi vi vestite, ok, voi vi vestite, loro si vestono, si vestono, ok, vesta, vestirsi, iartadi, fel modi, taman, mi sono vestito, au vestita, tamam, che ne stagano il verbo essere, mi sono vestito, au vestita, tamam, ok, tu sei vestito, au vestita, è una modi, vestito, au vestita, ok, qua a casa si è vestito, au vestita, tamam, si è vestito, au vestita, ok, è vestito, au vestita, tamam, vestito, au vestita, e noi ci siamo, ci siamo, ci siamo, exna, iartadi, au vestita, ci siamo, da quello modi, taman, ci siamo vestiti, au vestite, vestite, au vestiti, au vestite, tamam, ok, waha casa ma vi, ma si, vestiti, au vestite, handam, il misil bi è calma, a sport, spesso, Karla, si vestita, hai il betelbis, si vestita, infretita, infretita, hai il betelbis, hai il internally, Karla, hai il dibattito, hai, aga batte, spesso, tobbene, hai, 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 bi dold, ala il modora, spesso, Karla, hai, hai, di gęglo, Karla, si vestita, in fredda fredda, yani bessera, yani anche stamattina anche stamattina anche stamattina anche stamattina Carla si è vestita si è vestita in fredda anche stamattina si è vestita in fredda maia anche stamattina si è vestita in fredda ci siete? ok spesso io e Franco ci incontriamo al bar buongiorno spesso io e Franco ci incontriamo al bar anche ieri mattina anche ieri mattina c'è il verbo incontrarsi lafse il moudua spesso spesso adatan io e Franco Franco ci incontriamo il verbo incontrarsi ci incontriamo incontriamo al bar ok ci incontriamo incontriamo al bar anche ieri mattina anche ieri mattina ci siamo ci siamo ci siamo incontrati tabam franco walad fa'acchid c'è 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 muzzakkar ma l'hai c'è 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 incontrati al bar ma vabbè vabbè che da fianti spesso tu giulio spesso tu giulio e la mustafa mi sono svegliato prima di loro tu ti sei svegliata prima di noi lei si è lei si è svegliata prima di loro noi ci siamo svegliati prima di voi ok benissimo spesso io franco spesso tu giulio ti dimentichi dimentichi di chiudere a chiave ti dimentichi di chiudere a chiave anche stamattina sei dimenticato ti sei dimenticato ti dimentichi o ti sei dimenticato ti sei dimenticato gli anni si buongiorno amen buongiorno intensi ti sei dimenticato di chiudere a chiave niente te te f l muf te spesso i bambini si addormentano si addormentano tardi la sera anche ieri sera si sono addormentati tardi si sono si sono addormentati tardi spesso le due ragazze si mettono a studiare dopo cena jani daiman il bintin bisacru jani si mettono a studiare dopo cena e anche ieri sera si sono messi si sono messi si sono messe si è vestita brava ok si sono messe ok benissimo jana bordo come sopra mio padre si è arrabbiato si arrabbiato jani zahl per il ritardo anche mia madre si è arrabbiata per il ritardo e jani mi sono divertito molto ieri sera io mi sono divertito molto ieri sera anche noi anche noi ci siamo divertiti ci siamo anche noi ci siamo ci siamo divertiti anche noi ci siamo divertiti molto ok ci siamo divertiti io mi sono trovato bene mi sono trovato bene io trovato bene trovare sti io aggd nfsu io mi trovo bene in Italia io c'è nfsi c'è c'è ci siamo trovati divertiti Non ti senti il verbo, non c'è il verbo Non c'è il verbo, non c'è il verbo Il verbo è dove? Ok, perché il verbo si tratta anche Io mi sono trovato bene in questa città C'è anche il miei Quando dice il miei, la scotica significa il miei genitori Genitori C'è il miei genitori La scotica è la scotica Il miei genitori Anche i miei Si sono trovati Si sono trovati bene In questa città Come si sono Trovati Bene Si sono trovati bene Si sono trovati bene Si sono trovati bene Io mi sono trovato bene si sono trovati bene ok? e mi sono trovati benissimo mi sono decisa mi sono decisa mi sono decisa a cambiare casa anche Federico Federico anche Federico Federico è lui anche Federico si è deciso si è deciso si è deciso si è deciso gli anni si è deciso a cambiare casa nessuno mi sono decisa a cambiare casa e anche Federico si è deciso a cambiare casa Luisa, si è sposata l'estate scorsa. Luisa, si è sposata l'estate scorsa. Dianne, tazawagat fì al caif al modi. Anche Carlo e Anna. Carlo e Anna, ma l'homba? Carlo e Anna, homma che man tazawagu? Federico si è deciso. Ok. Si è sposata, tazawagat fì. Mi sono sposata, tazawagta Anna. Si è sposato, tazawag homma. Si sono sposati, tazawagu homma. Nessi, si sono sposati. Brava, Emani. Si sono sposati. Ok, brava. Chus. Hanna, mi sono, io mi sono alzato presto stammatina. Ok. Io mi sono alzato presto stammatina. Ci sono iacciari. Noi, sono a scopo stammatina. Mi sono aspettati. Non sono più amici. Anche Arika. Anche Arika. Femina. O sì. Anche Arika. Benji? Femina. E tonight. Anche Arika. Ma l'hova? Sì è alzata. Sì è alzata. Sìì alzata. Anche Arika. Sì, è al-sata Sì, è al-sata Ocay, tamale Hanno, ocay Hanno più qualcosa, hanno più verbi reflexivi Mell'hom più precedenti Precedenti, cioè che si metti altri D'arri verbi o di moscocchi Per verbi modeli Verbi modeli è l'afoglio Nel'he il nostro qualsiasi che è volere o potere e dovere prima c'è un appuntamento con il direttore abbiamo un appuntamento con il direttore in questo momento è occupato in questo momento è un appuntamento con il direttore potere accomodarvi in questo momento è possibile potere accomodarvi potere accomodarvi potere accomodarvi potere accomodarvi facciamo vedere il verbo potere che è il verbo riflessivo grazie grazie in questo momento è occupato potere potere accomodarvi accomodarvi vi siete annoiati di lavorare non ma vogliamo riposarci un po' prima di continuare quindi se voi viene al teatro se vuoi qui qui abbiamo un appuntamento con il direttore in questo momento è occupato nell'attesa vi potete vi potete accomodare al teatro con noi ti devi sprigare o devi sprigarti d'accordo? faccio subito ok ok potete accomodarvi potete accomodarvi o vi potete accomodare temam e il teatro vogliamo riposarci o ci vogliamo riposare e il teatro devi sprigarti o ti devi ti devi sprigare ok benissimo ok grazie a te fatno temam ok 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 can import il опер all partono tempore loc offic loc 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 Dobbiamo vederci domani Vedaere Romani Ok? Quindi qui si arriva il domicile dopo il verbo Occhè? Qui arriva il verbo modale Qui arriva il verbo riflessivo Qui arriva il verbo modale Il domicile l'anacchè, il domicile l'anacchè 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 Ok? Ok, ci dobbiamo vedere domani Brava, ya Fatma وهana عندana vogliamo voglio riposarmi un po' Voglio riposarmi un po' Uried an astarih qalilan Ok? Voglio io Ci voglio riposarmi un po' Uried an astarih qalili nih Amai Kalilian Volio riposarmi Iwa kuul Hiul Mi Iwa kuul Mi Mesha né Ichmou Non ci siamo mai visti nel fattato, ma solo nell'e piolish. C'è invece il simile di riposare me, ma si è un pollo di riposare, VOLIO REPOSAR ME Mie VOLIO REPOSAR ME OU VOLIO REPOSAR ME OU L'AVILIO REPOSAR ME OU L'AVILIO REPOSAR ME OU L'AVILIO REPOSAR ME Domenico domattina, domani mattina o domattina? Domattina dobbiamo alzarci presto, dobbiamo alzarci presto, domattina, domattina dobbiamo alzarci presto, domattina. domattina, l'è domani mattina ok, domattina dobbiamo noi alzar ci presto domattina gadan sabahan, dobbiamo alzar ci presto dobbiamo alzar ci presto ebbiamo alzar ci presto ebbiamo alzar ci l'echer che domir il monakis ebbiamo alzar ci presto buongiorno domattina ci dobbiamo ci dobbiamo ci dobbiamo alzare presto presto ebbene, dobbiamo alzar ci presto ci dobbiamo alzare presto, tamam? ok domattina ci dobbiamo alzare presto ok, bravo franco edio franco edio franco edio franco edio يعني, أنا هنا هناخد el basato مع il verbi il basato il verbi il verbi il verbi il verbi franco ed è franco edio abbiamo dovuto alzar ci presto abbiamo dovuto alzar ci presto o ci siamo dovuti alzar ci presto e l'etni inizia merci abbiamo dovuto canniege canniege balayna canniege balayna e ne ehna alzar ci presto o ci siamo dovuti alzarci presto ieri mattina ok carla e cienzia carla e cienzia vogliono vedersi in serata o si vogliono vedere in serata e hena io ridun han i ablobadi anni dell'evi c'ho fu bade dell'evi o hena hanno voluto vedersi in serata o si sono volute vedersi in serata veci hena va il sanjana ahda ahda Io e Franco dobbiamo alzarci presto domattina. Io e Franco dobbiamo alzarci presto domattina o mattina. Dobbiamo alzarci presto. Io e Franco dobbiamo alzarci. Ci dobbiamo alzare. Io e Franco ci dobbiamo alzare. Dobbiamo alzarci presto domattina. Abbiamo dovuto di alzarci presto da ieri o 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 da ieri. Ok? Io e Franco dobbiamo alzare. Ok? Io e Franco ci siamo dovuti il partecipio passato. Dobbiamo alzarci presto domattina. Quando uscolti la sua famiglia che deve essere dobbiamo alzare. Seguimo il verbio AVERA per il passato prozimo Seguimo il formato il formato, il formato il bambino che è riflusivo Adesso il verbio AVERA per il passato prozimo Non so se è facile o non so Non c'è qualcuno a dire questo Io Io Franco Io Doppiamo al sarci presto domatina Domatina . 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 Sìa, bene, ok? Karla escienzia, ma l'hom da? Karla escienzia, ma l'hom vogliono, vogliono vedersi in serata. Vogliono, vogliono vedersi in serata. Tamam? Vogliono vedersi in serata. Veder si, c'è una chattata dommiere veder si, ok? Non c'è una chattata dommiere veder si in serata. Karla escienzia, vogliono vedersi in serata. Nasi la chattata della chattata, non faccio la chattata per la chattata. Karla escienzia, ma l'hom. Karla. Karla. Carla e Cinzia si vogliono vedere in serata. C voliono verre. C.Voliono verre. C.Voliono verre. Si vogliono verre in serata, se voliono verre in serata. C.Voliono verre in serata. C.Voliono verre in serata. Everything will be done. il verbo avere, l'automir è il verbo essere ok? quindi io ho detto Carla e Cinzia Carla e Cinzia hanno voluto hanno voluto hanno voluto hanno voluto vedersi hanno voluto vedersi Carla e Cinzia hanno voluto vedersi le si sono veduti l'homa non ha nomer no, sei Anno voluto vedersi 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 Marìa deve alzarsi presto 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 Ok Gaizin gieb xaga tanya betsewi nafs gomla di Oh da il verbo volere fil participio basato biekun voluto Walèken homa tnim bennet fa biekun volute lammà nistagðam il verbo essere Fa biekun volute Tamam? Tamam? Marìa deve alzarsi presto Marìa deve alzarsi presto Marìa deve alzarsi presto Deve alzarsi presto Filmaadi ba'a Filmaadi da keda mudora? Alzarsi presto Deve alzarsi presto Marìa deve alzarsi presto Marìa deve alzarsi presto Marìa deve alzarsi Marìa? Marìa 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 ma è il verbo essere ha dovuto alzarsi presto il verbo avere il verbo avere è una chattina da mi freddo Maria Maria si deve alzare presto ok, questo è il modo ora Maria ha dovuto alzarsi presto o Maria 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 è dovuta è dovuta il verbo essere ha ghiere il nahaia Maria diventa Maria è dovuta si è dovuta si è dovuta alzare alzare presto è dovuta è dovuta è dovuta il verbo essere C A dovuta A dovuta A dovuta o Maria A dovuta alzarsi o C A dovuta alzari l'ho hagiib il C è dovuta alzare l'ho hagib il C l'ho hagiib il C l'akhir l'ho hagib il C è dovuta alzare il presto, o dove alzarsi lì è dovuto lì è il maktùb al-qa'da nei tempi composti lì è nel verbi modali i verbi modali doveva dovere, potere e volere prendono l'auziliare se precedono l'infinito riflessivo l'infinito riflessivo l'infinito riflessivo se invece sono preceduti l'infinito riflessivo l'infinito riflessivo prendono l'auziliare essere come verbi riflessivi l'auziliare essere l'auziliare se alzare se deve alzare se è alzata se è dovuta alzare carlo carlo volere lavarci carlo io ried in'howa ixtasil carlo si vuole lavare lavarci capelli capelli l'howa il-shar carlo 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 vuole lavarsi lavarsi i capelli l'auziliare carlo carlo si vuole si vuole capelli carlo lavarsi capelli carlo 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 Ma che fai uscione di qui fai uscire nel senso di che ci assia, mescene perché ci sono passati al cinza. Ma che fai uscire nel senso di un certo senso. E con me? Alcani è in aposto che faccia di scrivere il Digitino. Ok, andate a scrivere il Digitino. Non l'unico che aveva scrivere il Digitino. carlo il passato il prossimo carlo iwaxda yachod fiha il verbo essere uwaxda yachod fiha il verbo avere carlo ashoff aie iqabat ashoff aie iqabat ashoff aie iqabat ashoff aie nixna fahmin carlo si e voluto carlo walad si e voluto lavare iqabeli brava si e voluto lavare iqabeli ulaw eachod estere a voluto a voluto a voluto lavare si lavare si iqabeli hana hana si gafil aekhri aqadit il verbo avere uleken si lama ti gifil aowl carlo avoluto lavare si iqabeli brava ya Fatma ok carlo avoluto lavare si iqabeli ue carlo zey ma gaelit ameni carlo carlo manu gha carlo si e si e voluto si e voluto hana aqadit il verbo estere law carlo dakan carla hathabha si e voluta hana bent si e voluto lavare si iqabeli lavare si iqabeli amam ok amam hana ha 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 cominci a fare freddo hana ha 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 ve-steer si äre ve-ne la noy dur ve-ne 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 Se resta colorально, viene in mano! Non lo bambino che el mismo viro operare, tutta la forma motore Iniziamo seen le vari color e con la forma motore Noi dobbiamo vestirci bene la sera. 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 Noi dobbiamo vestire. Noi dobbiamo vestire. Non ti devi mettere questo vestito. Noi dobbiamo vestirci bene la sera. Noi dobbiamo vestirci bene la sera. Noi dobbiamo vestire bene la sera. Non hai dovuto. Hai dovuto. 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 Metterci. Dovuto. Metterci. Si, o, ti sei dovuta mettere, ti sei dovuta mettere, ok, questo è così, ok. Mi soparcero santo e di io, noi, vuole e di Marse, vuole e di Marse, vuole e di Marse, vuole e di Marse. Non c'è nulla il sabato scorso Sandro e io volere fermarsi abbiamo dovuto abbiamo voluto fermarsi abbiamo voluto fermarci o ci siamo voluti fermare noi abbiamo voluto fermarci o ci siamo voluti fermare bravo bravo amin carlo avoluto lavarsi ok ma Arrivata tardi all'appuntamento Acce non poter vedersi Non poter vedersi Non hanno potuto Non hanno potuto vedersi Non si sono potute Le nomi quindi è potute vedere Non si sono potute Non si sono potute Vedere Non hanno potuto vedere Vedersi Vedersi Siamo stati così occupati Echna conna maggiolini Che non poter permettersi E' un momento di riposo E' un momento di riposo Non poter permettersi Non poter permettersi Non abbiamo potuto Non abbiamo potuto Permetterci E' un momento di riposo Non poter permettersi E' un momento di riposo Non ci siamo O non ci siamo O O Si L'ho e' un momento di riposo O potuto L'ho e' un momento di riposo Permettere Permettere Ci Non si sono potute Siamo stati così occupati Che non ci siamo potuti Potuti Permettersi O non abbiamo potuto Permettersi Un momento di riposo Ok Ok Buona giornata Buon venerdi Buona giornata è facile, non è difficile, ma è difficile.